E' stato presentato questa mattina alla stazione dei Carabinieri di Paternò da parte del sindaco della cittadina Normanna, Nino Naso, un esposto con cui il primo cittadino, a nome dell'amministrazione comunale della città tutta, chiede alle autorità competenti che si attivino per la rimozione da YouTube del video del cantante neomelodico Leonardo Zappalà, di cui avevamo scritto ieri, che inneggia alla mafia. Un video che nel nostro articolo abbiamo definito indecente, poiché rappresenta un'affiliazione mafiosa di ragazzini in alcuni luoghi della città di Paternò. Appare incredibile il fatto che la clip abbia raggiunto 36.000 visualizzazioni. Vabbè, un video che non va un'ora alla città, danneggia l'immagine della città, dà un messaggio negativo ai nostri giovani, e quindi è giusto che l'amministrazione, e quindi in questo caso il primo cittadino, si reghi, chieda la rimozione del video. Sicuramente non è questa Paternò, Paternò è una città fatta da tanta gente, tanti giovani che si spendono nel sociale, che si trovano, che lavorano con le associazioni, negli scout, dappertutto, tanta gente laboriosa. Se non mi è piaciuto questo, forse è stata una leggerezza, quindi abbiamo chiesto, abbiamo presentato un nostro documento, e abbiamo chiesto alle forze dell'ordine la rimozione di questo video. Paternò è una città meravigliosa, fatta da tanta bella gente e di tanti luoghi simboli. Vedi il nostro meraviglioso Castello Normanno, vedi le nostre meravigliose salinelle, e la dobbiamo pubblicizzare per questo, per le bellezze che abbiamo. Ivi24, nella giornata di ieri, aveva deciso di non pubblicare il video, per non contribuire alla diffusione di un cortometraggio indecente che inneggia la mafia e che rappresenta un oltraggio alla città di Paternò, alla Sicilia tutta, e a coloro che rappresentano i siciliani onesti. Il cantante neomelodico, Leonardo Zappalà, aveva utilizzato, in passato, all'interno della trasmissione Rai Reality, delle parole forti rivolte contro i giudici Falcone e Borsellino. In quell'occasione aveva dichiarato queste persone, Falcone e Borsellino, che hanno fatto queste scelte di vita, lo sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche l'amaro.